Festival Mica è la sesta edizione organizzata dal Comune di Monte Sant'Agnuno insieme con la Regione Puglia nell'ambito appunto del finanziamento sui siti UNESCO di Puglia. Quest'anno particolarmente importante l'edizione perché celebriamo il momento cruciale, quello diciamo l'obiettivo principale per cui abbiamo messo su una strategia culturale di questo tipo. All'11 maggio saremo a Lussemburgo presso il Consiglio d'Europa per discutere del riconoscimento, o meglio della proposta di riconoscimento della Via Micaelica come itinerario culturale. Un importante traguardo che è appunto il punto di arrivo di questa strategia che abbiamo messo su qualche anno fa quando è nato il Festival Micael che oggi appunto è alla sesta edizione. Un itinerario culturale che abbiamo ideato, pensato insieme con gli altri partner, gli altri amici che ospitano santuari o comunque sono sedi del culto micaelico come la Val di Susa e in particolar modo con Mont Saint-Michel. Il sindaco di Avranci sarà lui a relazionare proprio al Consiglio d'Europa rispetto alla proposta di riconoscimento. Un importante risultato che se dovesse giungere a buon fine chiaramente cambierebbe notevolmente le sorti della nostra città, del nostro territorio e in particolar modo un importante riconoscimento per la storia della nostra città.